Benvenuti a tutti, sono Arcarina e a me, torniamo con Conan. Non so in quale giorno ho fatto uscire il caso, quello del Goro al bar, e adesso c'è un altro caso, comunque ve li metto qua i link in alto per collegarvi e vedere entrambi, il caso è il bagno dove Ranna è svenuta. Andiamo in spoiler, 740, 741, saluto velocemente, fra le occhie all'horror e Debby, direi prima di iscrivervi, supportarmi e puntiamo i 1250 iscritti o abbonarvi qua sotto, anche i social, ve li metto qui in basso, dateci un'occhiata, direi di incominciare subito con il bagno dove Ranna è svenuta. Abbiamo 740, 741, facciamo passare un attimo qua sotto i titoli 5 secondi, così vedete i social e tutto, ok, incominciamo. Il bagno dove Ranna è svenuta, che titolo accattivante, di che parla? In realtà il caso è più interessante di quanto pensassi, io in realtà questi casi li avevo già visti quando ho fatto il recuperone della saga un anno e mezzo fa, quando li ho recuperati ho detto Ah sì, ok, questo caso è inutile, me lo ricordo, essenzialmente questo, e andiamo sul caso, come facciamo sempre, poi facciamo la post credit, tra virgolette, e poi sul voto. Caso, velocemente, anche qua ho apprezzato più la parte comedi che il caso, non è un punto di forza, assolutamente no, anche peggio del caso precedente, se vogliamo, perché mi ha interessato l'intrigo iniziale, cioè il perché Conan era anziano lì per incontrare Erich Isaki, la madre di Ran, ma c'è anche Sera che è stata chiamata lì per beccare un tradimento, perché c'è una tale, che è una sorella che si deve fidanzare con uno, ma sto qua è un Don Giovanni, e allora Sera deve, deve seguirlo per capire che cosa succede, perché in questo hotel, questo Don Giovanni dovrebbe incontrare la sua ex, e quindi c'è tutto questo, il triangolo no, non l'avevo considerato. Può essere carino come arrivi sera, anche se qua Conan, essendo che si è cagato addosso col caso precedente, perché ha capito che Barbon e Vermut li stanno seguendo, un po' alla AI, in modo ridicolo, guarda tutti male. Ovviamente questa cosa durerà per cinque minuti, poi sparisce, perché rigorosamente così. E quindi mi è piaciuto questo, come dire, inizio di trama, adesso è scintilla di trama, funziona, ovviamente poi vanno a chiamare questa tizia che è morta, adesso parliamo del bene, del come e del perché. Voglio dire, a Fraer Run che ho scoperto una cosa molto buffa, dopo il primo episodio c'è la canzone finale, che non è neanche così brutta, forse è la meno indecente delle sigle giapponesi, e c'è un tale che si chiama Rain Man, quindi Mr. Rain ha copiato il nome da... Un regolino, non sono le canzoni, no? E infatti, anche in quelle originali, lo devo dire. E questo essenzialmente, poi andiamo sulla questione sera che messaggia con qualcuno, andiamo sul caso, il caso è stupido, ha una citazione colta a un caso di, che non farò il nome, Agatha Christie, una certa dinamica, che non voglio dire, va bene? Anzi, dico la dinamica, ma non dico il caso della Christie, cioè che forse, per togliersi dai sospetti, la tipa che ha ingaggiato sera, che non potrebbe essere lei la colpevole, essendo che Rain è svenuta e lei era in casa con Rain, e quindi la ex è morta prima, in realtà abbia finto di essere la vittima, per poi rialzarsi, approfittando del clodoformio, per sostituire il suo corpo con quello della donna. Ecco, questa è una tecnica usata in un noto caso di Agatha Christie. Lo posso apprezzare, ma è stata male, perché essenzialmente questa cosa scopriremo essere il trucco che avrebbe usato la manipolazione psicologica del vero assassino, che è il Don Giovanni, wow, ok? Che avrebbe fatto questa cosa per far sì che il poliziato sospettasse proprio della donna per essere lui quello scagionato, che è una cosa talmente folle. E come dire, io voglio fare un omicidio, voglio commettere un omicidio, e non faccio la cosa più semplice, come si potrebbe fare qua, e adesso ve lo dimostro, no? Dico, allora, io cado nei sospettati, però creo una tesi alternativa secondo cui potrebbe essere stato il mio vicino, che non vedo da due anni, un trucco psicologico per cui il detective... no, ok? Perché non ha senso, c'è tutta la questione del... che mi è piaciuta. Run, vai a controllare la casa, mentre io vado in salotto, perché c'è questa telefonata del Don Giovanni, parlo della tipa che ha ingaggiato Sera, no? E' ok, per cui dopo si dirà, eh, hanno fatto dormire la vittima sul balcone, anche sta cosa che lei dorme dappertutto, pure nel cesso, non ho capito bene, perché dorme fuori al balcone, ma si poteva fare che lei dormisse semplicemente sul divano del salotto, non è che c'era bisogno che essesse fuori, vabbè, ma lasciamo perdere, così che Run non vedesse la vera vittima, fra virgolette, e la cercasse dall'altra parte della casa per collassare, ok? In bagno, va bene, ma è complicata tutta questa dinamica, anche se l'assassina fosse stata la ragazza, anche perché c'è il problema delle chiavi, eccetera. Quindi, nel senso è, semplicemente si poteva uccidere lei in bagno e basta, finirla là. E c'è una questione ancora più grave, quella del cloroformio, perché si dice, è l'assassino che cosa ha fatto in ogni caso. Ha aspettato dentro il bagno, quando ha sentito Run entrare, ha immesso nell'area questo cloroformio e poi se n'è andato. Ma, anche coprendosi la bocca, l'assassino stesso avrebbe preso il cloroformio. Quindi, non ho capito. Aspetta, io ho capito che, tipo, tratteneva il respiro. Ok, ma il trattenere il respiro non lo puoi fare, a meno che tu non sia, secondo me, avrebbero potuto anche farlo, ma giustificando che magari lui era un nuotatore e quindi era allenato a mantenere il respiro in apnea. Ma, cioè, una persona normale non riesce a mantenere il respiro per così tanto tempo, a non respirare neanche un pochino, neanche, cioè, un minimo, neanche con la bocca, cioè, è impossibile. Poi, o utilizzavo una maschera, qualcosa del genere, ma non so come funziona bene il cloroformio, però, in questi casi, una maschera o trattieni completamente in apnea. Invece, cioè, proprio l'hanno lasciata a caso, sta cosa, trattenuto il respiro, fine. Ok, ma, non ha senso. E mi è sembrato strano, essenzialmente, forse questa ha un po' più senso, nel caso fosse lui l'assassino, il cloroformio ce l'ha messo alla fine. Io mi immagino una scena ridicola, lui che fa così, lo spruzza dentro, cioè, qui c'è il bagno, no, qua, fa così. La falla, ovviamente, finale, è la prova che inchioda questo tale, perché la lenta al contatto, voi immaginate voi, no? Una sta morendo in quel modo orribile, e che cosa fa? Ha visto la lenta a contatto che è caduta, che è impossibile da vedere, e mentre sta morendo, se la mette nell'occhio, affinché venga trovata dalla polizia successivamente. Come ho sempre detto, i messaggi cifrati in punti di morte, e l'intelligenza delle persone, mentre sta morendo, ha un cui di 950. Se usassero quell'intelligenza nella vita normale, non si suiciderebbero, perché ti hanno rubato una penna. Quindi è strano, è un po' ridicolo, ovviamente Run sviene, ok? Sano che non abbia detto, ho visto Shinichi, mi sono molto stupito. È scemo. In mezzo a quel vapore della doccia, mi è sembrato di vedere l'ombra di Shinichi. Esatto. E questo? Vai tu fra. Allora, arriviamo subito a quello che, non saprei definire se è peggio quello di prima o questo, come caso, perché la premessa era più bella lì, e questo qua, nonostante comunque sia più motivato, il motivo per cui loro sono già lì, abbia più senso sicuramente tutto. Ci sono delle cose che, a parte la confusione in alcuni momenti, ad esempio, il personaggio che poi è la ragazza che ha assoldato il detective, il fatto che, cioè ci sono tantissimi mille motivi, mille motivi, per cui Masumi non doveva neanche chiamarla, perché si è data la zappa sui piedi da sola, mi spiego meglio. Bisogna investigare se tipo il ragazzo è un playboy, e quindi sta andando, ok, ma se la ragazza è lì presente, va bene, ok, ma se lei è lì, non penso che lui ci vada a provare. Quindi, già la prima cosa. Seconda cosa, se lei ha architettato tutta una roba così, non pensa che magari è leggermente rischioso mettere di mezzo un detective? Ma dico, leggermente, poco poco, è vero, aveva fatto tipo tutto l'imbroio per incolpare l'altro, ma comunque stiamo parlando di un detective? Parlo ovviamente in ipotesi. Se dovessi fare una cosa simile, io non mi faccio, cioè non mi porto da presso un detective, aspetto che arriva la polizia, tanto la polizia si mette la zappa sui piedi da sola, perché salta passaggi, non fa quello, non fa quell'altro, quindi non ce n'è problema, cioè proprio tranquillo vado, chiamo la polizia e mi limito alla polizia quando si trova il cadavere, per non restare sospetta, ma che si porta il detective da presso già e si inizia male. Poi, il come è andato il tutto, ho capito anche la storia di Agatha Christie a cui ti riferivi, non fare un nome, però posso dire solamente che a me non piace quella sua storia per vari motivi, quindi partiamo da una bella base, già. Il tutto, come viene in scenato, è tutto, come dicevi tu, ha un sacco di falle, la stessa cosa perché deve dormire sul balcone, che poi per quanto ubriaco tu possa essere, ma addormentarti così dove prima capita, cioè, ok, va bene. Anche il fatto delle monetine, per come, che poteva essere magari una casualità, poteva essere, ci sono un sacco di cose, che in questo caso, me lo fanno vedere talmente tanto artificioso, che neanche ci credo, per quanto ci siano anche cose carine, cioè, comunque, fosse stato trattato un po' meglio, poteva avere senso, il fatto, poteva essere interessante, qui, il fatto, diciamo, di come si svolge il cellulare, ma neanche, perché, io, ok, ho visto pochi casi con Masumi finora, però non è una novità, l'interlocutore al cellulare, quindi veramente, questo caso è inutile, diciamocelo chiaro e tondo, cioè, inizia in un modo, e finisce in un tal modo, che cos'è la cosa che porta avanti, che si continua, cioè, ditemi voi, non c'è, quindi, ma a prescindere da questo, perché poteva essere anche un filler, ha un sacco di motivi, perché in questo caso, non cambia in aria, e questo è il bel proprio, è bellina l'interazione di qualche personaggio, sì, tu do qui, perché per il resto è detto già tutto, in questo caso, è il peggiore di questo blocco di episodi, per me, e non mi è proprio piaciuto, sia per i motivi di prima, quanto riguarda il cloroformio, che non viene, non si capisce come lui abbia fatto, e poi veramente, cioè, un pippone mentale, in pratica, cioè, pure la cosa del barattolo, che ha voluto mettere le impronte di lei, così poi il sospetto, affinché il sospetto cadesse su di lei, che poi non ho capito, dall'inizio alla fine, prima dice che è la sorella, poi dice che non è la sorella, poi dice che è la sorella, non lo so se l'hai notato anche tu Arca, ma io non ho capito, se quella è la sua ex, l'ex della, quella che è morta, è la sorella o no, dell'altra tizia bionda, cioè non si capisce, prima dice sì, poi dice no, o io ho visto che a volte la chiama sorella, poi dice mia sorella, boh, vabbè, non termine giovanile, tipo, bella sorella, così, come anche Masumi, poi dopo le chiama io fratello, e comunque lui, poi vabbè, è il muovente, perché aveva la, aveva trovato la ragazza migliore, e la figlia del presidente, ecco, la voleva scopare in giro, insomma, ma vabbè, cioè veramente, ammazzo per questo, ok, non è neanche male come caso, nel senso che ce ne sono di peggiori, però anche qua, ci sono delle cose che non, non si spiegano, e poi c'è quel dettaglio, della, del mascara colato, e la battutina su Masumi, ah, tu non usi mascara, perché sei un maschiaccio, ovviamente, perché siccome l'assassino, era un maschio, mica poteva sapere, che si strucca tutto il viso, perché aveva anche il mascara, e non, non solo il rossetto, invece lui aveva tutto solo il rossetto, quindi colava il mascara, vabbè, ci può stare, ma, la battutina su Masumi, anche meno, basta, avete rotto con queste battutine, Masumi, giustizia per Masumi, giustizia per Masumi, adesso altro che Yuki, in Psycho Pass, giustizia per Masumi, Masumi, bullizzata, ah, aspetta, mi è piaciuta però, la, adesso stavo rileggendo gli appunti, la, quando Conan mette alla prova, entrambi, per il fatto che loro portassero le lenti, effettivamente, quella è una cosa che, se hai, quando ho scoperto che appunto loro portavano gli occhiali e le lenti, ho avuto il sospetto di questa cosa qua, beh, ma anche quello, eccessivo a me, è capitato, che volta di stare senza lenti a contatto, e non ci vedevo niente, e ho fatto, sono stata anche mezza giornata, e ho vissuto lo stesso, cioè, non è che se mi davano una bottiglia d'acqua, eh, vabbè, dipende molto da quanti gradi di, il mio Pia ti manca, però, eh, ma, oltre a questo, il come davano i soldi, le monete e tutto, poteva essere una coincidenza, poteva, cioè, è un po' forzata la cosa, sì, sì, ciò che diceva prima, però, comunque, in modo carino, ah, poi, aspetta, e qua mi sa che c'è quel momento, dove Ranno fa, mi ha chiamato Shinichi, mi ha risolto il caso Shinichi, cioè, tipo, lei, in due minuti, ha spiegato tutto il caso a Shinichi, e, e Shinichi ha risolto il caso, grandissimo, Shinichi, lui sì che ha il, il cosiddetto intellettivo, eh, di mille e passa, nessuno sospetto, no, aspetta, quando Ranno ha fatto, ha detto quella frase, ha detto, oddio, il cono ha preso dalla parte giusta, pazzesco, ha avuto, ha avuto un'illuminazione, invece no, era Shinichi al telefono, però, vabbè, ovviamente, neanche Masumi se ne accorge di sta cosa qua. Parliamo un attimo della, della scena post credit, e poi andiamo il voto, ah, quindi, c'è questo fatto di, se era chiama qualcuno, per farsi confermare le deduzioni, quindi una, uno o una più intelligente di lui, di lei, che in Giappone non si capisce, e quindi, chi può essere, questo fratello, di cui si parlerà dopo, dai, faccio parlare un po' voi. Allora, è interessante questa dinamica, perché all'inizio Conan pensa, ma come sa Masumi che Akai è vivo? Invece poi lei dice, no, non è mio fratello quello scomparso, ma è un altro fratello, però, chi è questo fratello? ovviamente, le informazioni, te le devono dare, a briciole, piano piano, e poi tu devi mettere insieme, queste briciole, però, Masumi, si, si confronta, si messaggia, con, questo misterioso tizio, come fanno le mie amiche, quando, frequentano un nuovo ragazzo, quindi, viva la ship, Masumi, è questo suo fratello, incognito, che poi, io il sospetto ce l'ho, ma lo dico dopo, perché, riguarda gli altri due episodi, fin qua, è interessante, perché, ovviamente, oltre a Shinichi, che si confronta, con, tutti i suoi, la sua, troupe, di, 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 Agasa, i Detective Boys, eccetera, sui casi, c'è anche Masumi, ovviamente, si fa, aiutare, ah, ero dimenticato, di menzionare Eiji, perché c'è anche Eiji, a volte, anche Masumi, ha, un, un collaboratore, se possiamo dire, così, per risolvere i casi, quindi, chissà chi è, ok, per niente sgamabile, vai tu, Fra, velocemente, si sintetico, velocemente, io, ho semplicemente, due sospetti, tranquillo, tranquillo, secondo me, sono due le cose, o, è, un mago, perché, era un pochettino, dopo, è un po' sgamabile, questa cosa, abbiamo capito tutti, di chi parlo, oppure, probabilmente, secondo me, questa sarebbe, una cosa, anche migliore, stiamo parlando, di qualcuno, di qualche, organizzazione, a livello, importante, mi spiego meglio, è un po' complicato, non lo so, ma io, in realtà, ce lo vedrei, o qualcosa che esce dall'FBI, visto che c'è di mezzo ogni tanto, o qualcosa che esce, dai Men in Black, non lo so, non ce lo vedo, però, non voglio manco escludere la cosa, perché, per essere così, per sapere questo troppo, se non mi fai una roba così, il plot twist, non funziona abbastanza, quindi, o è Kaito Kid, o è qualcuno che proviene, da una delle tue organizzazioni, che ho nominato. Ah, io una cosa che non ho capito, come fa la madre di Ran, a essere informata, su tutto, cioè, tipo, perché la madre di Ran, che riferisce, a Conan, e Ran, che Masumi, stava parlando al telefono, con un altro fratello, e quindi lei, praticamente, mette le zizzagne, e dice, ma chi è suo fratello, mette, da uno spunto, a Conan e Ran, ma, cioè, la madre di Ran, come fa a sapere, tutta la storia di Yakai, del fratello, di Bo. Non ti sentiamo, Arc, sei mutato, oppure, tipo, no, dicevo, che semplicemente, ha riconosciuto, se era nella hall, e ha sentito, ecco, io la faccio molto, eh, vabbè, ma, cioè, se io, tipo, dovessi parlare al telefono, con mia madre, con mio fratello, non è che, tutti quanti, che stava parlando, con la madre, con il fratello, no, capito? Ti spiego, ti spiego, perché in giapponese, quando tu usi certe, certe particelle, alla fine vuol dire, che stai parlando con qualcuno, che è più alto di te, in grado, nella famiglia, e non è tua mamma, e quindi, il ni, eh, aggiunto, alla, al nome di qualcuno, descrive, il, il rapporto sociale, vabbè, ok, ok, facciamo così, ora io per il meme, inizierò a dire, che Masumi è la sorella, di Barbon, così, va bene, ci sta, andiamo avanti, perché ho, venti minuti, poi mi finiscono, i minuti, su streamer, andiamo al vuoto, io gli do, cinque, che, do un più, per il cinque più, vai, perché sappiamo qualcosa, di più di sera, c'è questo mistero, ma è un caso veramente, orribile, stupido, che vuole fare il caso, sofisticato, quando, sofisticato, non è, Deb? Sì, anch'io cinque, questo proprio non mi è piaciuto, io avrei osato a dare il quattro e mezzo, però siccome c'è un personaggio, molto importante, e molto interessante, come Masumi, mi metto anche io il cinque, come voi, bello, sulla stessa onda, e via. Va bene, va bene, quindi chiudiamo qua, e ci vediamo al prossimo caso, ciao.